Musica Benvenuti amici da tu Siamo nella sezione Giochi segnalati da voi E' come al solito mi avete segnalato un gioco Ecco, questo gioco in questione è Give Up, ossia Arrenditi. A game about failure and regret. Un gioco sul fallimento e sul rimpianto. E già dal titolo ho capito perché me l'avete segnalato e io, coglione come al solito, vi accontenterò. Start, andiamo a vedere subito in cosa consiste il gioco. A new challenger, add row keys to go. Quindi, le freccette per muoversi. C'è un bel tastone gigante che c'è scritto Give Up, ossia Arrenditi. Ah, quei puntini piccolini piccolini sembra che siano i piani. These are just warm ups. Let's get the blood flowing. Questo è solo riscaldamento. Facciamo scorrere il sangue. Ah, c'è anche il doppio salto. Yippla. Can you jump and hike? Try jumping twice. Questa è l'ultima volta che ti do un aiuto, eh. Vabbè, già il doppio salto l'ho scoperto prima. Sembra tanto I wanna be the guy, la. Fai come i movimenti e tutto. My name is Dasslefoot. Sì, vabbè, non me ne frega una minchia. Ah, vabbè, per ora... Non vedo il motivo per cui dovrei arrendermi. Give Up. Aha, 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 place to die. How unfortunate. Oh, fa anche il simpaticone fai. Not that enough? Ok, we've got some more. Vabbè, puoi ucciderci il bastardo. Là. Vabbè, niente di difficile per ora sono al piano 8. Solo il 17% del gioco completato. Penso che sarà molto più cazzotti in avanti. Ok. See that button down there? The give up button? I know you wanna press it. Oh, mi sta tentando a premere il pulsante give up così arrenditi. Ma io sono duro. Non mollerò così facilmente. Come al solito questi giochi flash li potete trovare nella descrizione. Per chi... Ah, sono morto. Ah, sono morto da volte. Per chi vuole secimentarsi. Cheesy. E lo può trovare là. Aha. Dice che ci darà dei biscottini caldi. Se premiamo il tasto. Vuole proprio ingannarci per premerlo. Ma usa una psicologia degna da Wheatley di Portal 2 per ingannarci. Ok. Ora abbiamo addirittura due torrette. Ah, ma beccato. Ma beccato la bastarda. Ah, 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 ah. E ancora inizia a farsi cazzutella la situazione. Poi chi mi vorrà vedere incazzato è la sua giornata sfortunata. Perché è il di notte e non posso urlare. Se no qua mi sfrattano. Anche perché se no condomini non posso urlare. Poi i miei vicini sono tutti vecchi. Appena rompo la minchia. Appena ci sono... Ci sono pochi decibel di rumore. Sono irritanti, ma storti. Lì. Hanno sempre da lamentarsi tutto quelli là. Ehm, e c'è il casino. Ehm, il parcheggio con la macchina che lo occupi sempre. Ehm, e questo e quell'altro. Ehm. Mamma fonte. Ah, oh, bastardi. Oh. Mi ha tolto la pettacola. I removed the starting platform. Minchia, mi ha fatto fare una combo di morti. Ehm, ehm. Una combo di morti strepitoso. Dai, dai. Parlo a bambera. E io... Non mi concentro. Toh. Vai. Ah, bisogna andare a memoria perché via via... Oh, addirittura. Vada, 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 vada. Vada, 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 vada. Sii, si incrociano due proiettili. Come fu? Ahah, starti. Ma come cazzo? No, 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 ragazzi. Non so come ho fatto, non me lo chiedete. Non so davvero come ho fatto. E qua come si fa? Come si fa? Ah, ho capito. Oddio, guardateli, guardateli che roba è. Che roba è? Ma che siamo pazzi? No, no, qua siamo pazzi. Ma dai! Dove fa? Eh, si, la madonna poi. Ok. Altro che Matrix, vada qua. Devo schivare tutti sti proiettili. Eh, non ci parliamo. Si! Ah, devo far anche il Matrix, qua. No, mi volevi fottere. Dove vuoi incolare me? Ah, è strontato Sì, ora c'è un millimetro di spazio per atterrare Mi stanno facendo male le dita È un movimento troppo frenetico Sono fuori allenamento Ah, no! No, 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 no Perché è rimasta anche bugata la piattaforma Stardi Non ce la posso fare, non ce la posso fare Non ce la posso fare No! No, no, no Dai, dai uuuuuh e la la e la la e la 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 gneee uuuuh non so perchè mi consigliate sti giochi siete dei bastardi siete dei pezzi di morda siete ma volete vedermi incavolatemi volete vedere volete vedere me che smadonna giustamente ha preso sti cosini ha preso sti omini blu celesti che mica di colore sono non lo so e non me ne frega saperlo e che palli no 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 mi ha saltato il domino qua porc fa così e che qua mi vanno via le piattaforme e mi tocca ammazzarmi sperai ah ma ha sparato soooopra pezzo di minchia eh eh devo guardare il laserino dove punta prima di fare le mie mosse non vi aspettate non vi aspettate la versione di give up con la chitarra di guitar hero come ho fatto con the world hardest game perchè no sarebbe un suicidio davvero non la farò non me la chiedete tanto ci sarà sempre qualcuno nei commenti eh fai la versione con la chitarra di guitar hero di guitar hero fai la versione della partita sicuro sicuro come la morte tutto hopla e eh jeje ah che cazzo ufff sto iniziando a perdere la pacienza e quando io perdere la pacienza e non quando io perdere la pacienza e non quando io perdere la pacienza se petpa pabbana 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 qui Oh 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 e si sono stato un po' fortunato ai livelli precedenti devo essere fortunato anche anche stavolta dai bello che questa non è neanche la metà del gioco figuriamoci i livelli superiori mi aspetto una bella paga per il servizio di riverniciatura in rosso del muro guardate che roba ora mi arriva qualcuno e fa no c'è ancora un po' di grigio non ti pago niente guarda e gli sputo in un occhio perché una riverniciatura così in pura emoglobina non l'avrete mai non l'avrete mai è più unico che errar una roba del genere ora muoio e bestemmio no ecco perfetto si vabbè da madonna pure va bene non capisco perché non sono eh perché non ero morto prima ma non ce la fa arrivare lassù come fa ma qua si è stato più facile beh si da madonna va bene si va bene si va bene lo vedrei molto bene questo gioco in un magari un xbox live arcade e roba del genere proprio fatto bene programmato bene additivo diciamo così o meno bianco additivo 100 più I'm on fire no 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 non fatemelo perché no ero arrivato lì sono morto come un cretino la morte più idiota di tutto il video sicuro sicuro com'è la morte l'avete capita no nemmeno io ci sparano con tutto ficcateci Chuck Norris anche nel livello diciamo che ci siamo oddio ci riusciamo a salire o no ok eh vaffan eh vaffan eh vaffan eh vaffan eh vaffan eh mi tocca far così tempo a leggero un pelo hopla eh vaffan spiegami il margine di azione che ho per un una roba così cioè hai quel millesimo di secondo dove hai cish se no ciao se hai potuto devi ricominciare il livello bello schifo bello schifo guardate 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 doci passo do passo ma doci passo cioè ma prendete conto ma dai ma dai ma dai non so perché mi sono paralizzato toglievo tutto il tempo del mondo sì vabbè mettiamoci due ore a saltare le robe mettiamoci due ore comunque in più questo tizio non salta scidenta la sua famiglia di puffi di omini blu no se muoio ora se muoio no 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 sì vabbè dai buonanotte ai sognatori e va lo sp*****o sto gioco dello sp*****o nooo 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 nooo